Eri successo ragazzi, eri successo per la seconda volta e non me lo aspettavo nemmeno, cioè questa volta proprio non pensavo sarebbe riuscito nuovamente il mio bando, l'armadietto, una cosa che magari per molti può essere una cosa banale ma per me in realtà è una mia grandissima soddisfazione, come una mia vittoria. E comunque avere il mio nome, il mio nickname sul gioco dove ho dedicato letteralmente cinque anni è un tipo di soddisfazione veramente che non posso spiegare e sono grata di ciò e vi ringrazio davvero tanto ancora per tutto il supporto e per credere in me perché senza di voi questo non sarebbe mai successo. Quindi davvero ragazzi grazie di cuore. C'è uno da te Marti? Mi ha contestato ma non è finita molto bene per questo ragazzo, cioè veramente tu per anzi che puoi confraccarsi in questo modo? Uno da me? Ma ho tornato, vao gaffe! Mi vogliono tutti confraccare! Era un push un po' suspicious, posso essere sincera. Io mi sono comprato un combat alla macchietta per 50 di oro perché non ce l'ho manco io. Non ho un pompa raga? Ah mo, piuttosto che farmare il legno, dovresti correre per andare da Ila. Corro. Eh no, non stavi correndo mo. Corro, però non vedo adesso. Ma è tutto a posto Ila? Sì, ma non lo vedo. Ah, allora l'ha apposta, ma io, ok. Era un hit. C'è quello che viene da Ila? Ah sì, c'è. Marti? Qua sotto da me. Sì, stavo un po' posto. È arrivata io. Oddio che misc ho fatto. Si fa la zorp però. Sì, ho visto. Ma è sopra uno, ma è sopra. Mi tocca fare la zorp a me. Mi ha distrutto raga. Sì, lui. Vabbè. Questa è con paura. C'è da posto? Ti ando da te? Giù. Ok, ci sono. Micheiano. C'è di giù? Vieni, vieni. E' one nel verso. Te lo giuro, che sopra. Dove sta? Ma, c'è! Mi rifisti un cazzo, no? Anche io. No, c'è uno. Quasi morto, pombo. Allora, mi trasferiva. Qua, mi sei da prestare la, Martin. Arriva. Posso essere Giorgia però, i là? Posso essere Giorgia? Vai. Ti pego non a morirmi. Quasi fatto, quasi fatti, i là? Godo, 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 fatto, fatto. Mamma mia, dottoress! C'era, 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 c'era. C'era, c'era. Ah, ma questa in più. Ah, ma questa in più, fatta, là. E io ne ho una, no, no, no. Non so, non trovi a fare se è in casa. Eh, anche io, non lo faccio, ok, 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 ok. Watch out, watch out, watch out, watch out, adesso! Knock, knock, knock. Mi prendo. No, no, ma... Ti ho una correra. Te lo distruggo io, ma non ho cato, non ho cato, non ho cato. Vuole restare? No, non lo resta nessuno. Cinquanta? Quanto ha fatto? Madonna. Giorgia salvata, Giorgia salvata, appunto. Che fa, raga? Ho fatto uno. Vada a prenderlo. Dai, vatti. No, ma con la catena? Ho una cena, mica, io l'ho po' infilata proprio nelle gengive, te lo giuro. Mi pushano, mi pushano, non possiamo... Vieni già. Niente. Vuole rebuttare, la vuole rebuttare. L'arriva da te? Attenso. Sono due. No, a me hanno preso di brutto, Marti. Un attimo. Arrivedo voi. Mi sto correndo. Noccato. Non ho propietà. Togli tanto adesso quando si chiude, raga. Non so, la so. In safe, in safe. Sì, da lì. Vabbè, il rebuttato l'ho fatto subito, quindi non è un problem. Quindi vuol dire che quelli lì che dovrebbero essere potenzialmente bravini, con la R forte, sono in due, eh. Erano qua dietro la casa. Non so se sono dentro... Ok, uno è dentro, uno è dentro. Non la serata... Eh, ce l'ho visto, ce l'ho visto. Tipo 15? A quello sulla casa? Non sono scarsi, ve lo dico, ve lo dico, eh. Fulpisse? Knock? Pampa mitico qua? Pampa mitico qua, mo? Pampa mitico, slurp, c'è tutto qua da me. Mitico, slurp. Peccato che ho fatto quel miss, raga. Perché l'avevo fulpissato, ho missato, perché mi ha friendroppato tantissimo. Vabbè, l'ho fatto comunque il... A lui. 88? 44 ancora? Ce li hai? Sì, ne ho due. Ok, me la faccio, me la faccio, me la faccio. Andate, armi mitico, mi sa. 57, 57, 58, 58. Laura, cracata, bianca, nocata. No, 85 bianco, 85 bianco la tita. Andate, 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 uno noccio, 85 bianco, uno. Stai restando da qualche parte, raga, mi sa. Cercatelo, cercatelo. Ok, il mio qua. Verso estra. Destra. Sono una stessa. 81 in head, è morto. Oh, mio Dio, game. La mia è bianchissima, quello dietro. Da cristallo bianchissima. Morto, uno nocato. Ah, eccolo, lui. For the game! Vino davanti. 140? No, rega! È morto di safe, è morto di safe. 2v2, 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 2v2. Il mio, questo qua è craccato, io l'ho. La vincete per noi, la vincete per noi, sì, sì, sì. Ti ha fatto la tour, però. Rampi il chismos, cazzi, là, mori di... Bravissima, vai. Continua ancora. Era bianco, eh. 1, contro 1, ragazza. Contro 1. 18, doppia. Pushata, l'ho pushata insieme in casa. Mamma mia! Bello, 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 Marti, eh? Ehi, tutti voi farei fuoco. Ah, ma la vincono tanto, Matti. Nel chilling, proprio. E da YouTube ugualmente. Cioè, dal mio lato era proprio God. Peccato che sono morta, ma sì, che stai. La vincono le donzelle. State attaccate, eh? Anche se c'è il mitico vi tappa. Tanto deve andare in safe, quindi stai, sì. Guarda come fa il gabbiano sotto i portici, sotto i tetti. Dai, ma dove sta? Tanto stava dentro, raga. Sì, ma devo uscire, tanto. Non è in safe, Lee. Io non sento Georgia. Ma ero mutata. Sì. State attaccata con le amo, non ti separare, non ti separare. Ora esce? E sta qua. Sì, sì, esce da qua, io. Da sinistra in alto, secondo me. Esatto, dalla struttura. Eccolo. Eccolo dietro di te, dietro di te. E la vincono! Ottimo, 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 ottimo. Davide, minchia, ho avuto sfiga, raga, quello là, io lo stavo uccidendo, 150, ero pronta a fare... Eh, non potevo, io a me tagliava tantissime. No, 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 ma hai fatto benissimo. Io ho fatto 150, 147, pronta a ucciderlo, mi tappa l'amico. Se no, l'avevo noccato, infatti è morto di safe. Quindi, gu 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 gu. Che palline. Questo game era molto più bello, ah, che bello. Quasi 4k danni, 13 bombette, mi piace, mi piace di più, questo. Solida ed esotica, oserei aggiungere. Certo.